La sposa 2, la scelta della Rai sulle puntate, cancellata la serie con Serena Rossi. Ci saranno le nuove puntate della sposa nel prime time della rete Ammiraglia Rai? E questa la domanda che si pongono i fan della serie TV con protagonista Serena Rossi. Tornata in onda in prima serata di domenica. La Rai, in questa stagione primaverile, ha scelto di dare una seconda vita alla fiction riproponendo gli appuntamenti della prima stagione in prime time. A questo punto in tanti si chiedono cosa succederà nel corso della prossima stagione televisiva, ci sarà una seconda stagione oppure no? L'appuntamento con la sposa viene riproposto nella fascia del prime time di Rai 1, le tre puntate. Che sono andate in onda qualche anno fa in prima visione assoluta, sono tornate in programmazione la domenica sera. Gli ascolti del debutto hanno premiato ancora una volta il prodotto, seguita in prima visione assoluta da una media di quasi 7 milioni di spettatori. La prima replica ha ottenuto un ascolto di quasi 2, 6 milioni di spettatori, pari a uno share che ha sfiorato il 15%. In tanti si chiedono quale sia il futuro della fiction e se ci sarà una seconda stagione dopo la riproposizione di queste settimane. Secondo quanto apprende Blasting News, la Rai non ha messo in cantiere le nuove puntate, la sposa 2 risulta cancellata dalla programmazione e non tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva. Tuttavia i fan di Serena Rossi possono stare tranquilli, perché nonostante la cancellazione della sposa 2 litro attrici napoletana continuerà a essere uno dei volti di punta della rete ammiraglia. Nel corso degli anni è diventata uno dei volti maggiormente ben visti dal pubblico, che ha sempre apprezzato i suoi prodotti televisivi. Gli ascolti delle serie TV con protagonista l'ex volto di Un posto al sole parlano chiaro, l'appuntamento con Mina Settembre. Ad esempio, è stato uno dei più seguiti della passata stagione televisiva, con una media che supera la soglia dei 4.7 milioni di fedelissimi e punte del 26% di share. Proprio questi ottimi ascolti di Mina Settembre hanno convinto la Rai a puntare ancora su questo prodotto, la terza stagione della fiction tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2023-2024. Al suo fianco ci sarà ancora Giuseppe Zeno, ma non si escludia neppure l'arrivo di nuovi volti che potrebbero rendere la trama ancora più appassionante e irta di colpi di scena.